Un altro esempio è la gamma di tecnologie spesso indicate collettivamente come geo-ingegneria, che potenzialmente possono aiutare ad invertire gli effetti di riscaldamento del cambio climatico globale. Ciò che ha attirato la mia personale attenzione è l'iniezione di aerosol stratosferico o SAI, un metodo per seminare la stratosfera con particelle che possono aiutare a riflettere il calore del sole, più o meno l'effetto con cui avvengono le eruzioni vulcaniche. Il programma SAI potrebbe limitare l'aumento della temperatura globale, riducendo alcuni rischi associati alle temperature più elevate e fornendo all'economia mondiale più tempo per la transizione dai combustibili fossili. Questo processo è anche relativamente poco costoso. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche stima che il programma SAI, una volta sviluppato, potrebbe costare 10 miliardi di dollari l'anno. Per quanto promettente possa sembrare, portare avanti la SAI può sollevare una serie di sfide per il governo e per la comunità internazionale. Dal punto di vista tecnico, le riduzioni delle emissioni di gas serra dovrebbero comunque accompagnarsi alla SAI per affrontare altri effetti del cambiamento climatico, come l'acidificazione degli oceani, perché la SAI da sola non rimuoverebbe il gas a serra dall'atmosfera. Dal punto di vista geopolitico, il potenziale della tecnologia di alterare i modelli meteorologici per beneficiare alcune regioni del mondo, a spese di altre regioni, potrebbe innescare una forte opposizione da parte di alcune nazioni. Altri potrebbero cogliere i benefici della SAI e ritirarsi dal loro impegno per la riduzione dell'anidride carbonica. E come con altre tecnologie rivoluzionarie, mancano norme e standard globali per guidare l'implementazione della SAI e altre iniziative di geo-ingegneria. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.